Ragazzi per cominciare questo video devo solo dire una piccola cosa ovvero che purtroppo la voce di Matteo non si sentirà molto Spero che comunque si riesca a sentire almeno un po' per capire i discorsi, detto questo buona visione Ragazzi vi avevo parlato di un gioco incazzoso che non vi avrei portato perché appunto quando registravo andava sempre male le partite Come va? Ragazzi ve lo porto lo stesso, il gioco, questo si chiama Paladins e lo potete trovare tranquillamente su Steam Oh! Raga una partita dopo tre minuti di rit... Sì! Allora io mi selecto, chi mi selecto? Victor In sta mappa, no! In sta mappa, raga! Mi prendo lui, Gork Grok, lo chiamerò per sempre Gork, Gork Metti un frontline, veloce che io Grok Al frontline ce l'abbiamo niente, lascia stare Ne abbiamo due frontline Loro ne hanno uno, che è Makoa, quel figlio di Troia Anche noi ce l'abbiamo Makoa E vabbè, però se da noi non è un figlio di Troia Tu devi capire questa logica Se ce ne hanno gli altri è un figlio di Troia Se ce l'abbiamo noi, lui non è un figlio di Troia perché è con noi, capito? Scusa, non avevo un'altra mappa Chi sta penchiando po' ruolo? In sta mappa non fa schifo, Gork Non mi grazie a... Piccolo spoiler ragazzi Probabilmente alla modcraft farò il mercato portuale dentro al quale ci metterò la farm di automatica di pesca Perché giustamente io giocando le versioni vecchie per usare le mod Vabbè, detto questo, che l'ho lasciato parlare Ragazzi Voglio fare questo qui Dentro al quale ci metterò la farm di pesca Perché ovviamente essendo in una roba... Ma questa mappa è nuova Sì, è nuova Essendo in una versione vecchia Ovviamente per fare esperienza è difficile Nel senso fare incantesimi Perché un incantesimo che si sblocca con 30 livelli Ti richiede 30 livelli e non 3 Ma chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Nelle vecchie versioni Ma non è... Questa è pure un'altra mappa Ma chi spacchio è? Cambia tutto È scomparuta Cioè non sai... Questa è una stronzata Non sai che mappare fino all'ultimo secondo? Ma te ti salvo io! Ma te va a vangulo! Non dura un cazzo Non dura un cazzo Ma te, ma te la torrettina Grazie, dov'è? Qua dove sono io? Testa di cazzo Grazie Grazie Ma altrettina Ma che cazzo Ma che cazzo è? Che cazzo? Che cazzo toglie Che io ho 105 al secondo Con la torre No no prof Quanto cazzo spara? Cioè Boh Se non muoio mi sparo tua madre ho sbagliato cingiulla fighi puttana e fighi puttana e che ne so di sdoppio picchie botanea sbagliato e vabbè e torretta torrettin cingin torretti ammazza però questa prima d'occhi gli spi a buddello mi ci sto ritmo riabituando anche perché raga e gli aggiornamenti su sto gioco l'aggiornamento di natale è durato un sacco di tempo e durando tanto tempo io ormai sono diciamo un po fuori allenamento poi hanno da testa e moto poi ovviamente hanno sputtanato tutto vado io devo abbassare adesso raga non avrete sentito quello che ha detto però c'è parlava in continuazione sopra quello che dicevo io perché ti tolgo il gain da quella parte di video durante l'edit ti hai la torretta oh è qui è qui la tattaruga tattarugina ma non avete un cazzo da fare nella vostra vita presidiate minchia eh non mi ha fatto la special subito virgin with power vuoi diventare vergine col suo test a big di puttana ma non c'è nessuno che vuole presidiare vero non mi piace questo posto mettiamoci un paio di escosto e vedi che ci vanno tutti salus da metta vabbè sto morendo sto morendo male muoio male muoio ma le tue 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 sto l'ex de metta morto torre torre grazie ecco dietro grande 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 conquistate non che c'è che contesto e dove sto più di bus ecco lì figli buttano a cingullata ammazzo ed ammazzo anche che muoio io prima devo ammazzare di alla fine di sta partita non è vero non ce la farò mai oh c'è tal ragà presidiate no cingulli 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 di tu no vai 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 sì sì e non lo prenderò più perché c'è lo invento utilizzare però cioè devi stare più safe raga non me ne fotte niente adesso io vittor e andiamo sul sicuro allora siamo su snowfall junction ok c'è scritto qui non è che cambia di nuova idea eh vediamo snowfall junction oh ma tu hai mai notato la barca lì in alto guarda no perché mi sta venendo sto dubbio ma c'è stato c'è sempre stata quella barca attenzione questo no 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 non mi sta venendo sto dubbio c'è sempre stata ho capito che mappa è qua va bene victor anche bach io ho preso ma coa ma coa ma coa anche vivian poteva semplice raga comunque cominciato la battaglia io sto sempre qui non me la gioco mai no c'è quel dito nel culo di dove mi ha schifo si ciappatevi le mie granate tattiche bastarda ragazzo questa mi è un dito e è piacevole con un dito nel culo oh ci deve venire di nuovo stami perché l'ho preso di gaggio così ti impari la prossima volta suo padre proprio non è che che è che gli mette il cazzo il culo mappa mare diretti la testa direttamente certo perché l'ho detto nico c'è belli che c'è il figlio di boshanna c'è questa strada ma vedi c'è mi ammazzato vedete che ho dito nel culo guardala che rompi coglioni che non è un cazzo da fare abacacca sta cazzo di me sa dove sono sta sempre dove cazzo sono non è potutamente possibile cioè io arrivo e viene o la mamma puttana o non lo so o il papà puttano è good night ricorda che il mio viola dietro sta bastarda questa qui che fa good night e sempre quella stronza i miei con la sua abilità speciale del cavolo avevamo sta cazzo di torretta ha rotto i tre quarti della minghia c'è dietro di nuovo sta faccia di merda dov'è che l'ammazzo buona solo a fare compi se andate scappata e vabbè mamma mi ha scioccato ci sta vabbè con un po' a culo ma muovi schifo schifoso coglione e ciao talus vai a morire ammazzata eccola minghia mi aspettavo ma madonna bomba ma l'oglio ha buttato una granata sto nivoli in merda vai a cacare nivola ammazzata posso morire in pace ma non morirò nemmeno forse ho sette una sedi vita faccia di merda muovi schifo vai rimani qui però e poi rimani è qui e c'è mim quel dito al culo o c'è viva ammazza la testa di minchia io scappo 10 di vita qualsiasi cosa volante sono morto c'è il good night di me buonanotte a tua madre buonanotte per sempre io voglio che non la ritrovi noi mattina non la ritrovi ma togli stano ma muore ah vai a cagare facciano vedere sta testolina sta testa di lindia che di sicuro è ereditato da tua madre ma muovi vaffanculo come si è evitato la tattica come ha schivato no sono io che sono scemo che l'ho mancato però facciamo finta che lui la sfida vado la granata proprio al tempismo perfetto raga qua se avete ditto buttate le granate c'è miv dietro c'è quel dito dito nel culo dito nel culo ma te fai lo scudo fai lo scudo fai lo scudo e non c'è sta stronza che cazzo mi insegue c'è a vaga castronza vai a cagare poi tu mis un cadavere di merda cio sotto i piedi dopo ci salto sopra ci salto soprattutto cadavere Mi sono ingazzato Ho sperato l'aspetto Ma dove questo ce ne può andare Eh vabbè Ciao Talus, Talus, ciao E qui c'è, c'è Meev C'è Meev, c'è il dito nel culo Vai 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 grandissimo Fai così Dove è sto dito Dito qui, c'è il dito C'è il dito C'è il dito La mia granata tattica ha fatto qualcosa Ho slegato Beric Ok abbiamo vinto Suka Meev Mannachi Raga In queste tre partite avrete capito Più o meno la dinamica di questo gioco Forse ve ne metto due Perché la prima non è andata benissimo Quindi va bene Forse, quindi avrete capito La dinamica di questo gioco Spero che vi piaccia Se volete Ora io vi faccio questa proposta Se mi sistema Se mi si sistema la connessione Raga Io potrei fare delle live Se voi vi scaricate questo gioco Che è gratuito Su Steam Possiamo giocare tutti insieme Io, Matteo E altri tre di voi In parti Quindi Fatemi sapere Se vi può piacere questa proposta Contattatemi su Telegram Che ve lo lascio in descrizione Per il mio Telegram Se mi ricordo Così io vi do tutte le istruzioni Per poter giocare Con noi Detto questo ragazzi Vi ringrazio Nel suo pollio Se volete lasciare un mi piace Se vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E vi informo Inoltre che Non potrò giocare con Matteo Per Fino A Capodanno Perché lui Va In Germania E quindi Non potremo giocare insieme Però ci saranno video Della ModCraft E di Farming Ragazzi Lasciate un bel mi piace Se questo vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E commentate qua sotto Secondo di qualsiasi cosa E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Madonna L'entusiasmo La prima volta Raga Che fa un saluto Entusiasta